Ciao a tutti! Siamo sul Lago Maggiore e stiamo vedendo il Golfo Borromeo. Di fronte a noi vediamo Verbagna Pallanza e Suna, con davanti una delle tre isole borromee, l'isola madre. Dietro in lontananza abbiamo l'aveno che si trova ai piedi del sasso del ferro. Girando lo sguardo possiamo ora vedere le altre due isole borromee, l'isola superiore o dei pescatori e dietro l'isola bella, della quale si distingue bene anche da qua la sagoma del bel palazzo. Davanti all'isola bella abbiamo poi Stresa e Timottarone. E noi invece dove siamo? Tra poco lo scoprirai! Siamo su un battello a Baveno e allontanandoci puoi ammirare questa bella località dal lago. Ciao! 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 Ora non mi resta che salutarti e dirti ciao alla prossima, ma mi raccomando metti un bel like e seguici, clicca su iscriviti, ciao a presto! Ciao a presto!